Se ti interessa acquistare i crediti di FIFA scontati, clicca il link in descrizione. Vabbra a tutti ragazzi ed eccoci qua, ritornati con il pack opening del calendario dell'avvento di FIFA. Oggi signori è 15 dicembre, mancano 10 giorni a Natale e se non lasciate like a questo video, io sono Babbo Natale, sono anche vestito di rosso, non ve porto i regali. E mi raccomando, non scordatevi di scrivere nei commenti, giorno 15 ci sono. E oggi ragazzi la situazione è interessante perché ha iniziato il Footmas, finisce il 31 dicembre, quindi ragazzi stiamo belli larghi anche per aprire i pacchetti di Natale fino alla fine del nostro calendario. E a proposito di calendario ragazzi, eccolo qui alle mie spalle, si sta pian piano completando. La squadra è questa qui, sempre il nostro 3412. Ed eccoli qui signori i pacchetti promo di Natale, ci stanno quelli lì da 50.000 crediti. Quindi ragazzi ne possiamo aprire 5 di questi qua, cosa che faremo, e 5 di questi qui mega. E ok ragazzi io direi di iniziare da questi qui e ci teniamo questi qui alla fine. Apriamo il primo e vediamo che troviamo. Ok, uh che carino tutto verde, è tutto natalizio, vediamo un po'. Cos'è? Spagnolo, tersino destro del Barcellona signori, Sergi Roberto 84. Ed è il primo tersino buono che troviamo dall'inizio di questo calendario, quindi forse potremo mettere la difesa a 4, se ne troviamo un altro. Vediamo un po', secondo pacchetto. Cosa mi dai? Ok, neanche gli schermini stavolta, che cosa carina, oh mio Dio. Party, party scritto come party, no party festa, perché quello non è una festa. Vediamo un po', ragazzi. Ci supera Sergi Roberto e Matic, quindi è il nostro nuovo nome di oggi. E abbiamo perso di nuovo un tersino. Attenzione signori, abbiamo quasi finito con questi qui da 700 FIFA Points. Vediamo un po', il simbolino non stava lampeggiando e infatti neanche gli schermini, che cosa carina. Chris Stensen. Di nuovo benedetto. E ok signori, ultimo di questi qua, poi ci stanno quelli buoni. Vediamo un po' se questo ci saprà regalare una gioia, ma non credo e infatti brasiliano, centrocampista, del Napoli, all'anno signori 82. Quindi per ora il migliore è Matic 86. E ok, spostiamoci a questi. 5 di 5. Vediamo il primo. Stiamo attenti. Niente simbolino sluccicoso. Vediamo chi ci dà. L'obiettivo è superare Matic 86, sarà difficile. Vediamo un po' chi sei. Non poteva mai essere Kanté e infatti è Ture. Aia ragazzi, aia. Secondo pacchetto di questi buoni. Buoni. Vediamo un po' che ci dà. Dai, non ci credo che oggi non riusciamo a superare un 86. Vediamo un po', ed è... Oddio, è Glick. Ah. Ritendo e scherzando, signori. Ultimi tre. Vediamo chi sei. Vediamo chi sei. Tanto non lo supereremo mai un 86, a meno che non ci dà un walkout. Ma questi qui non bastano, ragazzi. 84. Penultimo, signori. Dai. Niente simbolino che sluccica. Io non ci credo. Io non ci sto cred... No, neanche, neanche, neanche gli schermini. Oh mio Dio. Ragazzi, è incredibile questa situazione. Ha del surreale. Non ci hanno dato neanche un top player. Oh mio Dio, neanche adesso sbrilla. Oh mio Dio. Oh mio Dio. No, non ci sto credendo, ragazzi. Cioè, abbiamo trovato roba migliore negli altri pacchetti. E quindi, niente, signori. Il miglior giocatore di oggi è Matic. E ok, signori. Quindi, adesso la formazione ha questo aspetto qui. Abbiamo aggiunto Matic. E quindi, per fargli avere più intesa, gli abbiamo messo a fianco Son. Quindi abbiamo sacrificato Persic e Chedira, ragazzi. Non è male come squadra per adesso, eh. Quindi, andiamo ad aggiungere qui al nostro calendario Matic. Quindi, ragazzi, per questo 15 dicembre ci possiamo fermare qua. Ci vediamo domani con un nuovo pack opening. E come sempre, ragazzi, mi raccomando, fatemi vedere che ci siete. Lasciate un like, lasciate un commento. Sodium vi saluta. Bella.